salve a tutti amici youtube benvenuti o bentornati sul mio canale quarto giorno di sfila del carnevale di rio seconda e ultima giornata delle scuole del gruppo speciale si sfila con manghiera di sopra al carro questa volta in posizione molto molto alta un po come l'anno scorso è la notte del 5 di marzo sì perché il secondo giorno è la seconda fera che lunedì 4 però siamo già entrati nella terza fera il martedì grasso d'accordo è 5 marzo ed è ufficialmente sia in italia che in brasile per tutto l'orario il mio compleanno quindi tanti auguri a me da poco si sfila sono le 4 tra poco circa un quarto d'ora 20 minuti si entra nella venita si entra nel sambodromo e vediamo un pochettino si scaricherà la tensione solamente quando si arriva alla fine speriamo bene e speriamo che almeno o manghiera poticiamo arrivi tra le prime 6 per fare la sfilata dei campioni il sabato successivo io vi ringrazio ci vediamo al prossimo video vi invito a iscrivervi al canale attivare le notifiche mettere un bel mi piace e non mettete non mi piace solo così solo perché ho pubblicato un video e che caspita vada nostro regalo di compleanno e come regalo di compleanno vi chiedo una cosa nel post che pubblico su youtube ce n'è uno del quale faccio una raccolta fondi per il mio compilanno per save the children vi chiedo di fare una donazione anche solamente un euro sarei molto molto grato tantissimo io vi ringrazio e tanti auguri a me d'accordo alla prossima